Benvenuti al nostro spazio, allo spazio di Arezzo TV, dedicato alla salute e alla prevenzione. In questo caso parliamo di dermatologia, quindi della nostra pelle. Siamo con tutti i dirigenti dell'ospedale San Donato di Arezzo, con il primario Antonio Castelli. Parliamo dell'importanza della prevenzione, si avvicina l'estate, è indubbiamente uno dei momenti che richiede una maggiore attenzione per la nostra pelle. Quanto è importante? La prevenzione è importantissima perché i comportamenti poi condizionano quello che può essere l'insorgenza di alcune malattie. Questi comportamenti devono essere adeguati anche al tipo di persona, al tipo di pelle. E quindi quando parliamo di mare parliamo di fotoesposizione, quindi esposizione al sole. E chiaramente parliamo anche di fotoprotezione, quindi protezione ed è una prevenzione primaria quella appunto di evitare quelle che sono le scottature o esposizioni eccessive o un sovradosaggio da raggi ultraviolette. E questo si può fare in tanti modi. Il modo più semplice è quello di mettere gli indumenti, il cappello, gli occhiali, oppure mettere delle creme solari ed evitare l'esposizione nei momenti in cui le radiazioni sono più forti, dove le radiazioni UVB, quelle che sono un po' più dannose perché hanno maggiore energia, sono, ricordiamo che dopo i raggi UVB ci sono i raggi X, quindi sono delle radiazioni importanti. Fortunatamente vengono schermati negli strati più alti dell'atmosfera, è minima la quota che arriva sulla Terra, comunque nelle ore e nel mezzo del giorno queste sono preponderanti, sono i momenti in cui ce ne sono di più, quindi basta mettere delle creme solari ad alto filtro, con un fattore di protezione alto, evitare le esposizioni intense, prolungate e soprattutto nelle ore del mezzo del giorno. Una cosa, visto che parliamo di prevenzione, mi raccomando ai bambini, i bambini hanno una pelle più sottile, quindi queste radiazioni sono uno stimolo più aggressivo sulla pelle del bambino rispetto alla pelle dell'adulto e quindi i bambini vanno protetti con tantissima attenzione, anche perché parlando proprio di prevenzione è dimostrato che le scottature, i danni da bambino poi questi li pagheranno, li pagheranno e a volte anche a caro prezzo proprio nell'edà adulta, quindi i bambini, la raccomandazione che facciamo alla mamma, creme resistenti all'acqua perché i bambini vanno e vengono dall'acqua e poi massimo alle 12, ma meglio alle 11 e mezza portarli via dalla spiaggia. Una prevenzione che passa però ovviamente anche tramite dei controlli, quali sono i servizi che sono offerti all'ospedale? Certo, bravissimo. Allora la prevenzione, qui parliamo sempre di tumori cutanei, non melanoma, ma diciamo la nostra attenzione si focalizza sul melanoma, perché il melanoma è un tumore molto aggressivo, estremamente maligno e sappiamo tutti, perché l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, che se preso nelle fasi iniziali è un problema che è risolto e quindi c'è qui la dottoressa Garofalo e quando io sono venuto ad Arezzo la prima cosa che noi ci siamo riuniti e abbiamo detto qual è la cosa più importante? Ecco, fare una prevenzione secondaria e quindi la diagnosi precoce del melanoma. A quell'epoca lì, parlo degli anni 2000, non c'era il dermatoscopio, non c'era nemmeno questa cultura della prevenzione del melanoma, per cui chiesi alla dottoressa Garofalo di fare un master, di, cioè ci dovevamo attrezzare sia da un punto di vista culturale, perché non avevamo, qui non c'era questa cultura, l'ha fatto, l'ha fatto benissimo, io ritengo che sia una delle migliori in Italia per la diagnosi precoce del melanoma e da lì poi ci siamo attrezzati anche con degli strumenti grazie al Calcit che ci ha fornito, ma anche l'azienda ci ha seguito e quindi è stata, come dire, la prima cosa che abbiamo messo in campo è da lì è nata una scuola e oggi abbiamo moltissimi ambulatori di controllo, cosiddetto, quelli della mappa dei nevi, che appunto dove controlliamo le persone e dettiamo anche il ritmo dei controlli perché non per tutti uguali, non per tutti uguali e quindi cerchiamo di mettere in sicurezza queste persone e la cosa sta funzionando, quindi sul versante melanoma noi siamo impegnatissimi come su altre cose, ma molto di più perché l'ho detto e lo ripeto non arretriamo assolutamente in questa battaglia, quindi sia nella prevenzione e sia poi in quello che la presa in carico del paziente invece con il melanoma, dove anche lì dobbiamo essere molto efficienti molto, molto bravi nel dare tutte le cure appropriate. Ecco, dottoressa Anna Maria Garofalo, la prevenzione e poi la cura del melanoma non maligno in questo caso, quale è? Dunque, il dottor Castelli ha parlato appunto di prevenzione che è molto importante perché la cura migliore in questo caso è saper cogliere un melanoma nella fase iniziale, cioè un melanoma in situ o un melanoma sottile. Questo significa salvare la vita al paziente e quindi è questo per questo che abbiamo, ci siamo battuti per far crescere questa metodica che è la dermatoscopia, che è una diagnostica non invasiva importante, che ormai è una tecnica consolidata e noi appunto la eseguiamo attraverso diversi ambulatori che abbiamo sia nel presidio di Arezzo, ma anche nelle strutture periferiche, utilizzando varie strumentazioni, quale il dermatoscopio manuale, che è un strumento molto maneggevole, utile, ma che già ci permette di fare una diagnosi precoce di melanoma o il video dermatoscopio con il quale noi archiviamo le immagini e seguiamo poi nel tempo quelli che sono considerati pazienti più a rischio, fare quello che si dice il follow up. La mappatura dei nevi in fondo consiste in questo, cioè fare una foto globale del paziente e poi andare ad archiviare le immagini dermatoscopiche più a rischio, diciamo. Questo chiaramente presuppone anche la formazione dello specialista, perché appunto, come ha detto prima il dottor Castelli, io sono la più anziana e quindi da me è partita la formazione, i vari master, corsi di aggiornamento, per cui è una metodica che se la vogliamo utilizzare al meglio ci deve essere uno specialista dermatologo proprio istruito per questa metodica, quindi attraverso una lunga formazione, ma direi anche una grande esperienza, perché come tutte le diagnostiche non invasive, diciamo il top della professionalità si raggiunge anche con i grandi numeri, cioè quindi questi specialisti che sono dediti esclusivamente a questa metodica e tutti i giorni guardano, vedono, visitano molti pazienti. Quindi quanto è importante controllarsi? Allora il controllo noi appunto dipende molto soggettivo, perché come dicevo prima ci sono i soggetti più a rischio, sinteticamente diciamo che i soggetti più a rischio sono i soggetti che hanno una familiarità per il melanoma, che hanno numerosi nei fototipi, soprattutto i fototipi biondi, i fototipi rossi sono i soggetti più a rischio, il numero di nei, aver avuto un pregresso melanoma, sono tutti fattori di rischio, per cui noi differenziamo, quindi un paziente a rischio lo mappiamo, diciamo, e lo seguiamo nel tempo, perché noi quando dopo lo visitiamo gli diamo già il controllo successivo, che può essere generalmente o a sei mesi o a un anno. I soggetti non a rischio possono anche essere risultati diciamo in un periodo più prolungato, quindi la mappatura dei nei non è necessaria per tutti, il soggetto moro, che ha pochi nei, che non ha familiarità, può farsi anche un autocontrollo periodico, va istruito come e quando e poi periodicamente ogni due o tre anni tornare dallo specialista dermatologo. E cosa si deve fare attenzione? Allora bisogna fare attenzione, dunque negli anni 80 si parlava del famoso ABCD, anzi, poi è sopraggiunta la E, cioè l'AB sta per asimmetria, bordi irregolari, colore irregolare, le dimensioni, esiste, però poi abbiamo visto nel corso degli anni che la, e questo lo dico sempre anche ai pazienti, è molto importante la E, cioè l'evoluzione, cioè una nuova lesione che cresce, ma che cresce e che cambia visivamente nel giro di pochi mesi, è sempre un campanello di allarme e spesso ora capitano i pazienti perché diciamo che sono anche molto più attenti, dopo tanta campagna di informazione che abbiamo fatto, diciamo che soprattutto i più giovani sono molto attenti a questa cosa. Con il dottor Aldo Cuccia invece parliamo di psoriasi, quali sono in questo caso i servizi che mettete a disposizione dei pazienti? Sì, allora ad Arezzo ormai da diversi anni abbiamo l'ambulatorio dedicato alla psoriasi che segue i pazienti interessati da questa problematica. È una malattia infiammatoria cutanea ma sappiamo che in una quota non piccola di pazienti può essere una malattia infiammatoria che coinvolge anche altri organi distretti. Pertanto il laboratorio di psoriasi fa parte anche del centro della psoriasi dove il paziente viene seguito anche se ce n'è bisogno con la collaborazione di altre specialistiche. La psoriasi è una malattia che si manifesta sicuramente sulla pelle e non è rara perché coinvolge circa il 2-3% della popolazione generale. In una percentuale di casi può interessare l'infiammazione oltre che la pelle anche le articolazioni, quindi il paziente ha dolori e quindi in questi casi c'è bisogno anche della consulenza reumatologica. Pertanto l'ambulatorio psoriasi segue questi pazienti anche a 360 gradi e può attivare non solo le consulenze ma anche poi le terapie più appropriate. Dopo aver inquadrato il paziente si può identificare la migliore strategia terapeutica che può essere molto diversificata perché si va dalle terapie semplici che si applicano localmente sulla pelle, le cosiddette terapie topiche, per poi passare alla fototerapia che invece è una cabina che eroga raggi ultravioletti di tipo B però a scopo terapeutico a questo punto che hanno un effetto antinfiammatorio e poi ci sono i farmaci sia tradizionali che i nuovi farmaci biotecnologici che sono farmaci più avanzati per casi più importanti, più complessi e anche casi che non rispondono ai trattamenti convenzionali. Qual è l'incidenza di questa patologia? Allora è un'incidenza relativamente alta, è una delle motivazioni più frequenti per i quali i pazienti si rivolgono nell'ambulatorio dermatologico, quindi diciamo che pensiamo che se su 100 persone almeno due, in almeno due casi abbiamo la psoriasi, quindi diciamo 2-3%. Ecco, un ultimo aspetto del quale insomma abbiamo piacere di parlare con la dottoressa Sabrina Mazzoli è quello che riguarda le allergie che riguardano la nostra acute. Ecco, sotto questo aspetto cosa possiamo trovare all'interno dei nostri ospedali? Allora nel nostro ospedale San Donato appunto appositamente nella nostra dermatologia abbiamo il nostro ambulatorio allergologico strutturato sia per la diagnosi, prevenzione e cura delle patologie allergiche che di alcune dermatose infiammatorie come possono essere la dermatita topica e l'orticaria. Per quanto riguarda tutta la diagnostica allergologica, noi offriamo i nostri utenti, tutto quello che serve alla quindi diagnosi di dermatiti allergiche sia irritative che da contatto, sia praticamente la diciamo la prevenzione e la diagnosi di pollinosi allergiche alimentari. E chiaramente questo servizio lo mettiamo anche a disposizione delle due diciamo patologie infiammatorie che sono la dermatita topica e l'orticaria che negli ultimi anni hanno avuto anche diciamo un'evoluzione grazie anche all'introduzione di farmaci innovativi come i farmaci biologici. Infatti diciamo che da circa due anni noi abbiamo iniziato a seguire pazienti con dermatita topica e orticaria da moderata a grave perché dobbiamo dire che la dermatita topica è molto conosciuta nei bambini dove si fa una diagnosi appunto precoce anche dal pediatra quindi noi seguivamo già insieme al pediatra alcune forme di dermatita topica ma erano lasciati un pochino da parte se si può usare questo a questo termine gli adulti che alla fine poi non avevano possibilità terapeutiche. Grazie all'introduzione di questi farmaci innovativi resi disponibili e anche nel nostro ospedale possiamo dare sollievo a questi pazienti che come pazienti della psoriasi non hanno numeri grandissimi però hanno molta sofferenza questi pazienti perché sono pazienti proprio che hanno un prurito molto intenso e a volte sono limitati anche nelle attività quotidiane per svolgere appunto quotidianamente le loro attività con questa patologia quindi dare un'opportunità terapeutica oltre che di diagnosi è molto importante per questi pazienti. Numeri in aumento per quanto riguarda le allergie? Allora i numeri in aumento sì soprattutto per le allergie alimentari tanto che noi abbiamo anche una collaborazione con i gastroenterologi perché grazie anche all'evoluzione di alcune patologie come la celiachia abbiamo questo diciamo filo conduttore che ci aiuta a fare diagnosi a distinguere anche forme di celiachia da forme di allergie alimentari al grano non solo la celiachia che invece ha un'intolleranza. Ecco dottore l'attenzione la prevenzione forse è importante più che mai è troppo spesso sottovalutata? Ormai questa cultura io direi che è consolidata è consolidata e diciamo il nostro obiettivo da quello che abbiamo sentito anche ora dai colleghi è quello di dare servizi. Noi siamo un servizio sanitario e quindi diamo dei servizi su un bene assolutamente importante forse uno dei beni più importanti che noi abbiamo che è la nostra salute e quindi a noi garantire non solo la prevenzione quindi diffondere la cultura come stiamo facendo stasera grazie a voi la cultura della prevenzione ma anche poi creare dei servizi che danno delle risposte sia da un punto di vista diagnostico che poi terapeutico al paziente sia esso un paziente con orticaria sia esso paziente con psoriasi sia esso paziente con tumore cutaneo quindi le risposte devono essere delle risposte complete. Noi ci impegniamo su questo e anzi garantiamo questo perché se non fossimo in grado di garantirlo io lo dico subito qui i pazienti rimanderebbero rimanderei dove so che invece sono capaci di farlo. Noi quello che facciamo vuol dire che lo possiamo fare e lo facciamo come come deve essere fatto altrimenti ci tireremmo indietro ma ripeto abbiamo creato questi servizi faccio un esempio per la psoriasi abbiamo anche avuto la certificazione siamo la seconda in Toscana tra le prime in Italia ad averla avuto quindi il nostro impegno per i cittadini anche noi siamo cittadini siamo degli utenti e quello di dare dei servizi efficienti ed efficaci. Ecco ringrazio tutti i professionisti che si sono resi disponibili insomma per averci dato tutte queste informazioni e ringrazio voi per l'attenzione.